A Casale scontro aperto tra maggioranza e minoranza. Ieri sera nel Consiglio Comunale si è registrata come era stato annunciata l'assenza della minoranza. Il sindaco ha spiegato, la capogruppo dell'alternativa per Casale, Fabrizia Maggiola, non ha rispettato i fatti. Ci aveva promesso scuse pubbliche dopo le sue bugie con smentite ufficiali sugli organi di stampa ma non ha dato seguito alle sue intenzioni. Abbiamo la registrazione del nostro incontro e quello che aveva assicurato non ha fatto. Abbiamo informato il prefetto che noi non parteciperemo più alla Consiglio Comunale. Non ci sentiamo rappresentati da chi non rispetta le promesse e non si scusa dopo insulti gratuiti. Dopo le dichiarazioni della capogruppo, Fabrizia Maggiola, è arrivata la risposta dell'amministrazione e della gruppo insieme per Casale, affidata proprio alle parole del primo cittadino. Non avendo nulla da rimproverarmi, spiega Pizzi, confide in un ripensamento da parte della minoranza in modo tale da ripristinare una clima collaborativo, alla luce anche delle importanti e delicate questioni economiche e sociali che dovranno essere affrontate nei prossimi mesi. Evidentemente a nulla sono serviti i tentativi fatti per ripristinare una clima collaborativo all'interno dell'Assemblea Comunale. Da parte nostra comunque, conclude il Sindaco, non verranno mai meno l'impegno e lo spirito collaborativo che da anni utilizziamo per amministrare il nostro Comune. Trasparenza, capacità di ascolto, buone maniere e le competenze che mettiamo in campo ogni giorno sono il miglior bigliato da visita per il nostro gruppo. E dopo questa precisazione, nuovo a fondo della Maggiola, non c'è peggior soldo di chi non vuole ascoltare.